The Fall Guy Ciao a tutti e benvenuti! Dwayne Johnson protagonista di The Fall Guy Ne parliamo dopo il video Non ti fai sciacquare Con quello che hai fatto, si! Vento là! Di che parli amore? Di che parli amore? Brutassino Mi sta ascoltando? Si certo Il 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 Sign Il 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 Dwayne Johnson e il regista di Terminator Salvation, Joseph McGinty Nicholl, sono in trattativa per l'adattamento cinematografico della serie tv anni 80 The Fall Guy, che in Italia aveva il titolo di Professione Pericolo, ve la ricordate? La serie in onda dall'81 all'86 narrava l'avventura di due stuntmen, Colt Severs e Howie Manson, chiamati a risolvere casi polizieschi. A Dwayne Johnson andrà la parte di Colt Severs, che nel telefilm aveva il volto del celebre Lee Majors. Produttori di questo adattamento, Walter Parkes e Laurie MacDonald. Come sempre vi terremo naturalmente informati sugli sviluppi di questo interessante progetto. Fateci sapere con i vostri commenti e già che ci siete mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook FilmisNow. Ciao, alla prossima!